Ciao, mi chiamo Lara Bellardita, sono una psicologa e psicoterapeuta. Sono specializzata in psicologia clinica e in psicoterapia ipnotica. Il mio lavoro di consulenza psicologica in Mindwork è centrato sulla promozione della salute e del benessere psicologico delle persone, in particolare attraverso la scoperta e la valorizzazione dei punti di forza del carattere. Ogni persona infatti ha un profilo unico di caratteristiche che riflettono la sua identità. Spesso però manca la consapevolezza di avere a disposizione dei superpoteri e a volte può essere difficile riconoscere le proprie risorse. Se non conosci i tuoi punti di forza, come puoi stare e fare bene in famiglia, a casa o sul lavoro? Come puoi prenderti cura di te e delle persone intorno a te? Insieme potremo allora conoscere e allenare i tuoi punti di forza e scoprire come valorizzarli al meglio per affrontare le sfide, gestire lo stress e migliorare la performance. Il servizio di Mindwork ti permetterà di farlo quando e dove vuoi. Se vuoi scoprire i tuoi superpoteri e imparare a usarli, ti aspetto su Mindwork.